Siamo arrivati all'ultima puntata di questa stagione, lo sapevo, sembrava un traguardo così lontano, no? E invece, guarda, il tempo fugge, veramente, mi sa che sentirò la vostra mancanza, me sa, eh, che sentirò la vostra mancanza, me sa, non è detto, eh? Oddio, a sua, oddio, lei chi sarebbe? Il presentatore e l'annunciatore! Ah, già, è vero, pensi che non abbiamo nemmeno finito la stagione e già l'avevo dimenticata, l'avevo rimossa! Lo prendo come un complimento! Sì, perché i traumi tante volte uno tenta di rimuoverli, vabbè, grazie comunque, grazie a lei! Non perdiamo tempo, perché ho un sacco di cose da dire in questa puntata e c'ho solo un'ora, mannaggia a me, perché perciò poco tempo, pochissimo tempo, se no te pare, se io avessi tempo, ma te pare che non spenderei, che so, qualche minuto per parlarvi, per dire di sesso? Sesso, quante S in una parola sola? D'altrote, per parlare di sesso il tempo si deve trovare, dai! Allora, ve la dico, eh, però un minuto e poi andiamo via! Veramente, a Moncalieri, vicino Torino, una coppia è stata multata per aver fatto sesso alla fermata dell'autobus! Normale, no? Dai, una cosa normale! D'altronde, a chi di noi, quando uno sta, no, 27 barato, non passa, dice, Madonna mia, chissà se faccio tardi, e già, no, ti sbottoni, che si può fare, eh? Chi vuole copulare, che è passato il 42, allora si mette, no? Succede anche da noi a Roma, eh? Sugli autobussi dell'Atac, succede frequentemente, noi dentro l'autobus amoreggiamo, perché stiamo talmente attaccati che, eh, prima ti tocchi, capito? Fai un po' di bondage attaccato agli appositi sostegni, e poi, quando stai per scena e ti accendi di passione! Oh, ma mica una volta, due, tre! Ma che? Noi a Roma, ci abbiamo certi ritorni di fiamma sugli autobus, che, eppure, quando siamo scesi dall'autobus, quello, l'autobus continua a bruciare! Pensa, quanta, eh, l'ardente, la passione romana! Ma io di queste cose, no, no, non vi posso... Comunque, a Moncalieri, a Moncalieri, all'arrivo della polizia locale, richiamata dalle proteste dei passanti, dice, madonna, io, veramente, qua, questa tutta gnota, io non riesco nemmeno a salire sull'autobus e devo passare sopra a questi due, insomma. Quindi sono arrivati i vigili, e l'uomo è scappato da pinguino, è scappato da pinguino, così, ha visto i vigili, è andato via tipo Charlotte. e ha lasciato, coraggiosamente, il grande cavaliere, ha lasciato lei, come il quattro dei bastoni, così l'ha sdraiata dalla parte, e lei è stata presa in fragranza del reato, perché lei era veramente fragrante. e i vigili di Torino a lei gli hanno fatto... l'hanno combinata, l'hanno combinata grossa, praticamente, la multa gliel'hanno fatta di 10.000 euro, 10.000 euro mi sembra un po' esagerato, 10.000 euro, perché voglio dire, per fare attività fisiche all'aperto, come dice il nuovo DPCM, mi sembra un po' esagerato, 10.000 euro. infatti la donna, i vigili, hanno detto no, è troppo, dai, è troppo, se vuoi fare uno sconto, voi siete pazzi, così mi lasciate in mutande. E i vigili hanno detto guardi che lei già non ce l'aveva da una mezz'oretta, ma io di questo non vi posso parlare, se no te pare, io non ho tempo. Se avessi almeno un minuto per dirvi questo, io per esempio vi direi, vi parlerei per esempio, di una notizia eclatante, che in tanti noi italiani aspettavamo. Veramente una notizia che ha fatto il giro del mondo, è una notizia fondamentale per la nostra Repubblica Italiana sulle vaccinazioni in Italia. E allora, state tranquilli e italiani, perché Gianluca Vacchi si è vaccinato. Oh, facciamo un applauso, finalmente stavamo un pensiero. Io adesso, stasera, dormo più tranquillo, perché almeno Gianluca Vacchi è mezzo vaccinato, perché lui, in effetti, a lui proprio, lui non lo volevano vaccinare, perché lui è andato al centro vaccinale di Caselecchio di Reno, proprio dove gli aspettava, è andato lì, sai, si faceva i selfie, i video, è andato così, ballava, tipo il ballo di San Vito, e lui ha detto, salve, sono Gianluca Vacchi, no? Così, mi voglio vaccinare. E quello il dottore gli ha detto, gli dice, guardi, che signor Vacchi, lei per età, ha 53 anni, ancora non gli aspetta, gli tocca domani, deve venire domani. E lui, ma che sta scherzando? Non è con chi crede di stare a parlare, ma lei crede veramente che io, Gianluca Vacchi, sto tutto il giorno così, senza fare niente? E il dottore gli ha detto sì. Penso proprio di sì. E lui, è bravo, c'è ragione, in effetti io sto senza fare un cazzo tutto il giorno, lei mi conosce. E il dottore ha detto, sì, anch'io infatti la seguo su Instagram. E allora Vacchi che cos'è che ha fatto? Quello che un po' fanno tutti, no? Quando ti negano il vaccino, chiunque di noi va all'aeroporto, prende il proprio oggetto privato, e lui, con questo oggetto privato suo, va a Belgrado, no? Con la sua compagna, la compagna di Vacchi, la giovane Vitella, non so come si chiami quella ragazza, è andata a Belgrado a fare la prima dose di vaccino. Solo che, andando a Belgrado, doveva fare i selfie, e quindi, coi video, il dottore gli voleva presso la seringa, e lui, così qui dice, se fermi un attimo, guardi che si spezza l'ago. Se è fermato un attimo, niente, gli hanno dovuto sparare col fucile per i rinoceronti, sai, nella savana, sai quei fucili che si usano per anestetizzare i grandi mammiferi? E gli hanno detto, a Belgrado, come a dire, ritorni fra una settimana che c'è il richiamo, così, e lui, quindi, ci rientrà fra una settimana, con, lui però, appena è tornato sull'aereo, così, poi vedendolo uscire da Belgrado, dall'ambulatorio, tutti hanno detto, madonna, sto vaccino, fa brutto effetto però, infatti a Belgrado hanno smesso di fare i vaccini, dopo che è uscito Vacchi, è stato un crollo, madonna, questo era così giovane, guarda com'è uscito fuori, postata la notizia su Instagram, perché lui, non c'è, ah, lui l'ha dovuta postare, manco tempo di entrare sull'aereo, si è postato, che si era vaccinato, postata, tripudio su Instagram, tra i 20 milioni di follower, che seguono Gianluca Vacchi, Vacchi ha 20 milioni di follower, e il Papa, ce n'ha 8 milioni, e il Papa, 8 milioni, praticamente un italiano su tre, segue Gianluca Vacchi, e io vorrei sapere, ma come, ma come, ma come, ma chi, ma come, ma chi, allora io vorrei fare, io facciamo una prova, un'indagine, uno su tre, segue Gianluca Vacchi, allora, da qua, allora, italiana, uno italiano, italiano, allora, un, due, tre, italiana, sei italiana, allora, tu mi devi dire a me, perché, segui Gianluca Vacchi, qua, perché, tu sei italiano, perché segui Gianluca Vacchi? io non lo seguo, tu non lo segui? non lo seguo, allora, famo un'altra prova, quindi, una, tre, allora, uno, due, tre, tu, mi devi dire a me, perché segui Gianluca Vacchi? io, assolutamente non seguo Gianluca Vacchi, tu non segui Gianluca Vacchi, vabbè, allora andiamo da quest'altra parte, perché sai, tante volte gli italiani si espostano, allora, allora, facciamo, tre italiani, uno su tre, uno, due, tre, tu, sei italiana? sì, tu mi devi dire a me, perché segui Gianluca Vacchi, perché? ma non seguo Gianluca Vacchi, allora, da questa breve indagine, risulta, che un italiano su tre, segue Gianluca Vacchi, ma tre italiani su tre, si vergognano, di dirlo, signor Brignano, mi scusi, lo so che ha poco tempo, sì, mi dica, però posso intromettermi, infilarmi nel discorso, mi dica, per dire una cosa al nostro pubblico, posso? dica, dica, non so se lei lo sa e se lo ricorda, ma oggi è il 18 maggio, è il 18 maggio, è il suo compleanno, è vero, lo so, io non lo volevo svelare, perché sembrava troppo una piaggeria, tanti auguri, grazie, tanti auguri per i suoi 58 anni, non ho capito, scusi, tanti auguri per i suoi 58 anni, innanzitutto sono 55, a dire la verità, 55, quindi, mi dà tre anni in più, non è la stessa cosa, ecco perché io, la devo licenziare, io faccio bene a maltrattarla, perché lei è veramente distratta, guardi, veramente, comunque, grazie lo stesso, grazie veramente, grazie veramente, 55 anni, sono una bella età, è passato del tempo, felicemente, sono successe tante cose, alcuni ricordi sono così, sbiaditi nella mia memoria, ma ce n'è uno, per esempio, che invece è vivido, vividissimo come ricordo, ed è quello della mia nascita, anzi, a dire la verità, io mi ricordo perfettamente di quando sono stato concepito, quindi ancora prima della mia nascita, dice no, dico sì, certo, e vi assicuro, che conquistarsi il diritto di nascere in questo mondo, è molto difficile, io me lo ricordo, io mi ricordo, che per stare in quel posto caldo, il ventre materno, protetto per nove mesi, gratuitamente, bed and breakfast, la colazione entro le 10, ma sai che lotta che ha dovuto fare ognuno di noi, io mi ricordo, che per un posto solo, nella pancia di mia madre, quella mattina, ci presentammo, in oltre 300 milioni di spermatozoi, nemmeno ai provini di X-Factor, c'era tutta quella gente, 300 milioni di spermatozoi, una cagnara, un macello, disorganizzati, nessuno rispettava la fila, uno che mantenesse l'ordine, che so, uno un comitato organizzativo, un protezione civile, una guardia giurata, niente di niente, buttati così alla rinfusa, e poi non stavamo nemmeno nella sede centrale, da mia madre, no, stavamo in una succursale, da mio padre, divisi in due camerate, di forma sferica, 150 milioni da una parte, e 150 milioni dall'altra, pareti di cartilagine, tipo cartongesso, si sentiva tutto, per cui non si riusciva a dormire, sballottati, da una parte all'altra, perché mio padre, c'aveva le fregole, finito il lavoro, stava correndo a casa, da mia madre, perché aveva una botta di sesso, ecco, a un certo punto, nel mio dormiveglia, così, ho sentito una voce, che squarciava il silenzio, c'è sentito uno, sveglia, giù dalle brande, forza, dai, pelandroni, scennete, chiedenti visita, chiedenti rapporto, andiamo, sveglia, giù dalle brande, sbrigatevi, pelandroni, sveglia, sveglia, io così, preso all'improvviso, di soprassalto, io, oddio, non sapevo cosa fare, allora chiese, dico, scusi, capo, brigadiere, e dice, che è? Non sono brigadiere, chi è? Sono uno spermatozoo, graduato, dico, vabbè, scusi, senta, ma che succede, perché queste urla, che dobbiamo fare? E lui, zitto, e mettete questo, e mi dà, una pettorina, numero 61, ancora me lo ricordo, mentre me le stavo mettendo, e non sapendo cosa fare, chiesi al mio compagno de Branda, al 62, e gli ho detto, scusi, a 62, mi faccio, confidenziale, dico, ma che devo fare con tutta sta prescia? E lui mi dice, se vedeva che non era dell'Aera, uno spermatozoo del nord, mi fa, mi guarda e mi fa, sei romano te? Eh? Te sei romano? E dico, sì, è il solito, non sa mai niente, romano sa mai niente, vieni giù con la pena romano, sai niente, qui 300 milioni, ho spermatozoo, sanno tutti tutto, lui sa niente, romano, romaladrona, romo de merda, va a cagare, eh? e io ho detto, ma che ce l'hai con me? Io una domanda ti ho fatto, ho detto solo, che dobbiamo fare? Eh, che dobbiamo fare? Dove manna, magna, magna, romano, allora, terrone, che c'è altro, mamma mia, oh, mi stavo calmando, ho detto, mi vuoi dire, che dobbiamo fare? Dobbiamo puntare all'ovulo, dobbiamo, che cosa? All'ovulo, dobbiamo puntare l'ovulo, e che? Che è l'ovulo, l'ovulo, non so, ma come si chiama l'ovulo, si chiama ovulo, specie di, come dita Roma, del cupolone, grosso, l'ovulo, già grosso, però solo uno di noi ce la fa, e do rimane, sta olo, do rimane, sai, niente romano, di merda, Roma ladrano, fanno venire nervoso, sto romano qui, viene giù con la piena, oh, ma che hai preso, da cosa? E ma, te sto chiedendo do rimane, che ti ho detto, gutica? Allora, mi te dico, solo questo, allora, mi te dico, che quando sbarchiamo, ci troviamo tutti, piazza Vazzina, piazza Vazzina, la Vazzina, conosci, piazza Vazzina, la riconosci, perché sei alberata, sei uno slargo, tutti i alberi neri, di alto fusto, ogni albero, sei così, tu, esci fuori, sempre dritto, vai dritto, piazza Vazzina, vai dritto, fai tutta via del falloppio, all'incrocio, te arrivi all'incrocio all'incrocio con Martín Lutero, 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 siamo con la gente romana, di merda, mamma mia, vai mona allora, Lutero, allora, mamma mia, io ti giuro, gli stavo a mettere le mani addosso, quando a un certo punto mi ha fermato l'altro compagno di Branda, è il 60, mi fa lasciarlo perdere a kiddo, ma che tu stai ancora il tuo babbo di minchia, madre mia, che rottura di cugnana, stamattina, ci hai domandato tanto a che ora sono, mi rompia la minchia, a triura, madre mia, rottura di cabbassese, sto credendo, io qui in nuoto, insomma, stavamo a litigare, allora a un certo punto si è sentito un botto, BOM, si sono aperti i portelloni e quello ancora a urlare, uscite, siamo arrivati, correte di corsa, se non morite, andate all'ovulo, tutti all'ovulo, correte, 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 e tutti usciti, un po' mi impazziti di corsa, 300 milioni di noi, a scappare come matti, o di mezzo a starberi, ogni tanto qualcuno, BOM, piava un arbero in pieno, arberi neri che non si vedevano, una fatica, innanzitutto perché la corsa era tutta in salita, perché mia madre stava cucinando e mio padre per le fregole non gli è dato manco il tempo di sdraiasse sul divano, poi chi spingeva da una parte, chi si arrampicava dall'altra, chi si è perso per strada, arbuio, senza un punto di riferimento, un lampione, che so, una segnaletica, paleti scivolose, sembrava di stare a giochi senza frontiere, ma non so come, non so perché, sarà stato il caso, la fortuna, o forse il destino, a un certo punto, io lo vidi, era lui, lontano, bello, tondo, bianco, sodo, dissi, l'ovulo sodo, di corsa mi avvicinai, tutto intorno all'ovulo, era pieno di gente, chi lo prendeva a carci, chi c'entrava a diforzarlo col piede di porco, chi con la fiamma ossidrica, chi cercava le chiavi, chi suonava il citofono, io non avevo niente di tutto questo, allora, allora dissi, presi la, adesso io, io gli entro di prepotenza, presi la rincorsa, e chium pum, gli ho dato una capocciata, oh, uno spigolo, c'aveva quell'ovulo, l'ho preso io, una botta, un dolore, ah, io Dio mamma che dolore, mi era uscito il figozzo, quindi mi misi a cercare una fontanella, per dare una sciacquatina, quando a un certo punto, con la coda dell'occhio, vedo un gabbiotto di Eternit, dove dentro c'era un signore, in divisa, che leggeva il giornale, mi avvicinai e gli dissi, scusi, capo, chi è che c'è che vuoi, dico scusi, e lei che fa, a te che te frega, no, dico scusi, siccome volevo chiedere un'informazione, che vuoi, e dico, ma lei che fa, sto a lavorare, che non si vede, ne dico no, da fuori al gabbiotto, no, ma non sembra proprio, so il guardiano dell'ovulo, che è, che c'è, che vuoi, no, dico, una domanda soltanto, come si fa, buon uomo, ad entrare, dentro l'ovulo, e chi ne è l'altro, vuoi entrare nell'ovulo, tu sordi, che vuoi entrare nell'ovulo, che vuoi entrare nell'ovulo, e perché proprio te dovresti d'entrà, dico, guardi, come perché, mi sembra doveroso, io ho pieno diritto, come, io sono frutto di mio padre, lo vede, io gli assumio pure, io ho lo stesso DNA, ho gli stessi cromosomi, vabbè, un po' di isa, un po' di, qui si te guardi intorno, so 300 milioni come te, siete tutti uguali per me, con ste poche referenze, qui in centra, qui ci so delle regole del comune, e che centra, così, vedi questo, vantra, ma c'entra, da c'entra, ma c'entra, ma c'entra, io allora, ho visto, insomma, questa cattiveria, mi sono messo da una parte, appoggiato da una parte, un po' deluso, se vede che questo mio atteggiamento gli ha fatto un po' pena, allora dopo un po' fa, ah regà, vieni un po' qua regazzi, dico, mi dica, vuoi dire che io, io te vorrebbe fantra, e che ce so i regolamenti, qui noi siamo, capito, siamo lì, ci al dovere, qui, qui, questi sono regolamenti del comune, o vedi, io ce l'ho le mani, ce l'ho le mani legate, se no ti pare che non ti fuggi contrar, ma senti un po', dimmi un po' la cosa, c'hai un zio politico te? No, o vedi che non ce l'ho contrar, non ce l'ho contrar, ce le regole, no, ma c'hai un zio sindacalista? No, no, non ce l'ho contrar, vedi che, ce l'ho non ce l'ho contrar, no, un zio cardinale? No, allora non ce l'ho contrar, una piotta per me ce l'hai? No, e ho capito, ma te vai in giro senza manco una piotta, allora ho capito, da solo che non si entra, no, non ce l'ho contrar, punto e basta, allora io, ho capito lì, che stavo sbagliando tattica, che se volevo veramente nascere, dovevo cambiare strategia, ebbi un'idea geniale, mi spostai dal gabbiotto, presi un raggio di luce, di sguincio, che arrivava diretto da Piazza Vagina, che mi illuminava tutta sta parte del volto qua, e gli dissi, a capo, che c'è? Ma non mi riconosci? No, chi sei? Ma come? Sa quello di prima, sono Enrico Brignano, chi? Enrico Brignano, sono quello della televisione, quello famoso, no, avevi una fascia conosciuta, ma che vuoi fare? E vorrei entrare, ma che vuoi entrare? Ma non mi potevi di prima la fascia tua, dai, ha spinto il bottone, e mi ha fatto entrare dentro l'ovulo, da solo, e così, lì, ho vinto il biglietto, per il parto dei divertimenti!